Ciao milanisti, bentornati o benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi e oggi parliamo di nuovo di mercato perché c'è una notizia, una notizia importante che è arrivata proprio questa mattina è una notizia che riguarda l'attaccante Rossonero, vi avevamo raccontato già nei giorni scorsi di come i rossoneri stessero pensando di andare a rinforzare il reparto offensivo della squadra visto che Giroud sta facendo gli straordinari e poverino, sarebbe anche il caso che qualcuno gli andasse a dare una mano Jovic purtroppo non dà garanzie, è molto probabile che già a fine stagione lasci la squadra se non addirittura prima a gennaio appunto, Okafor non può essere troppo considerato perché è anche l'alternativa a Leao sulla sinistra e quindi servirebbe un rinforzo, si valutano eventualmente anche dei giocatori molto importanti però qualora fosse difficile arrivare a loro o comunque oltre a loro il Milan sta puntando seriamente su un grande 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 giocatore, un grande grande talento e ha già presentato un'offerta ufficiale per lui prima di continuare adesso vi svelo chi è, lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti mi raccomando è importante, non vi costa davvero niente, attivate la campanella se volete anche ricevere le notifiche commentate per dirmi la vostra su questo giovane talento che si chiama Mattia Popovic che è serbo, avrà un nome un po' particolare ma vi assicuro che è veramente molto molto forte e la notizia arriva direttamente dalla squadra mercato di Gianluca Di Marzio quindi esperto in calcio mercato e uno specifico da Luca Bendoni che ha svelato questa mattina come i rossoneri si siano mossi in maniera concreta per provare a strappare alla concorrenza fittissima delle squadre europee, delle grandi squadre europee Popovic perché? Perché è un ragazzo molto giovane, è un 2006 quindi 17 anni quindi potrebbe quasi far concorrenza a Camarda che è addirittura un 2008 voi pensate magari cosa può essere l'attacco del Milan con Camarda e Popovic tra qualche anno è anche un colpo in grande prospettiva però Popovic ha già delle esperienze nelle grandi squadre cioè squadre diciamo di prima squadra gioca nel Partizan di Belgrado però ovviamente nella primavera, nella squadra Under-19 ha il contratto in scadenza a dicembre, a dicembre del 2023 questo cosa significa? Che già a partire da gennaio sarà svincolato il Milan per questo ha potuto presentare un'offerta ufficiale al giocatore cioè un'offerta concreta al ragazzo di un contratto per 4 anni e mezzo ovviamente si tratterà di chi fa l'offerta migliore economicamente parlando dal punto di vista delle garanzie tecniche di crescita e ovviamente anche si tratterà di essere più tempestivi perché come vi dicevo Popovic è nel mirino di tantissime grandi squadre quindi è per questo che il Milan ha subito presentato un'offerta perché vuole cercare di anticipare la concorrenza sarà difficile aggiudicarselo come caratteristiche è un giocatore molto interessante perché può variare tanto può fare la prima punta che è forse uno dei ruoli principali ma può giocare anche esterno di sinistra e trequartista che anzi il ruolo di trequartista è sicuramente quello che ha ricoperto con maggiore frequenza quindi è un giocatore che si adatterebbe perfettamente allo schema tattico del Milan perché potrebbe appunto fare sia la prima punta che la seconda punta che l'esterno a sinistra e quindi ripeto immaginatevi magari tra qualche anno un attacco a 2 o a 3 con Camarda centrale e Popovic a sinistra o al suo fianco sarebbe un colpo in grande prospettiva ma con la possibilità magari proprio al posto di Jovic di andare a coadiuvare Giroud e magari l'arrivo di un altro attaccante già a partire dalla finale di questa stagione perché comunque vi ripeto il Milan sta cercando di andare a rinforzare il pacchetto offensivo poi bisognerà capire se effettivamente Jovic resterà, se non resterà se sarà Popovic e basta il rinforzo se riuscirà a prendere Popovic, se il Milan prenderà un altro attaccante quello che vi posso dire, voi mi direte, eh così, tante ipotesi, tante possibilità sì, perché ovviamente ancora il Milan sta lavorando a queste ipotesi sta lavorando a queste possibilità, ci sta provando poi nel calciomercato di certo non c'è nulla fin quando non ci sono le firme poi io vi posso raccontare quelle che sono le intenzioni del Milan in questo caso Di Marzio ci racconta che c'è anche un'offerta effettivamente già presentata dal Milan al ragazzo per 4 anni e mezzo che significa quindi fino a giugno del 2028, un'offerta importante per un ragazzo di 17 anni dal Milan e poi bisognerà capire se ci saranno altre possibilità di mercato in attacco o se il Milan si accontenterà di lui qualora dovesse riuscire a prenderlo ovviamente qualora invece non ci dovesse riuscire sicuramente proverà a fare un altro colpo in attacco fatemi sapere se vi piace Popovic, io vi ripeto, considerando che ha 17 anni ha un fisico importante perché è alto 1,93 sto leggendo tra l'altro lui è nato in Germania ma è serbo quindi doppia cittadinanza dicevo può... è alto 1,93 quindi è bello imponente un fisico slanciato, alto però ha anche una bella gamba cioè molto veloce, molto rapido molto molto veloce io ho visto qualche video, vi dico la verità su YouTube, ho guardato qualche cosa non ho mai visto giocare in partiti interi però comunque si capisce subito che tipo di giocatore è poi bisognerà... ovviamente non si capisce il livello del giocatore non si capisce le qualità non si capiscono le qualità del giocatore e che sei un campione se non è un campione perché poi nei video sono tutti bravissimi però si capiscono le caratteristiche si capisce che tipo di giocatore sia ed è un giocatore, ripeto, molto dinamico, molto veloce che ha il dribbling ma ha anche il senso del gol i numeri... quest'anno ha fatto tra l'altro 5 gol anzi no, scusa, 21 gol in 25 presenze con 5 assist che sono numeri veramente importanti un gol ogni 93 minuti cioè è un giocatore che segna veramente tanto è un talento è un po' come Camarda è un po' come il nostro Camarda ripeto, mi auguro che tra qualche anno il Milan magari possa vantare questo attacco potenzialmente stellare con Popovic e Camarda ma tutto dipenderà della risposta del giocatore il Milan sta lavorando da tempo su Popovic Moncada tra l'altro in queste ultime settimane si è mosso tanto in giro per l'Europa per vedere partiti chi molto probabilmente è andato anche a osservare di nuovo da vicino questo giovane attaccante serbo e quindi il Milan si è mosso presentando un'offerta Camarda, Popovic l'attacco del futuro del Milan a oggi il Milan ha problemi a segnare gli mancano gli attaccanti tra, non dico molto, 3-4 anni forse il Milan potrebbe avere effettivamente un attacco stellare con Popovic e Camarda fatemi sapere cosa ne pensate voi se conoscete Popovic se l'avete visto magari qualche volta giocare se vi piace cosa pensate di questo possibile attacco da sogno con quella polvere di stelle che manca da un po' di tempo al Milan con Popovic e Camarda tra qualche anno lasciate un mi piace a questo video sperando che ovviamente vi sia piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti è importante, non vi costa nulla e veramente ci mettete un secondo mi raccomando fatelo per favore poi attivate la campanella se volete anche ricevere tutte le notifiche dei video che andiamo a pubblicare ma soprattutto seguitici su pianeterminan.it e su tutti i nostri profili social dove trovate ovviamente tutte le notizie aggiornate in tempo reale per oggi è tutto io vi saluto e vi auguro una buona giornata dandovi appuntamento al prossimo video